Con i ladri in casa, costretto a rimanere immobile, minacciato, un cacciavite puntato al petto. È rientrato nella sua abitazione dopo una commissione in paese. Quando stava salendo le scale dell'abitazione che dai garage portano al piano rialzato, si è trovato di fronte due banditi. Vittima Vanni Tonini, 51 anni, illeso ma sotto shock. È stato rapinato nella sua abitazione in via Foscari, all'Oreggia. La vittima ha avuto il sangue freddo di non reagire. È rimasto immobile e ha atteso che i due malviventi si allontanassero. Poi è corso alla finestra ed è riuscito a segnarsi il numero di targa del mezzo utilizzato per la fuga, che è risultato rubato a Mussolente, in provincia di Vicenza. Immediato l'allarme al 112, sul posto i carabinieri della compagnia di Cittadella. Dai primi riscontri pare che i due malviventi fossero dell'est Europa. Dopo essere entrati nell'abitazione, una tri familiare hanno messo a soquadro tutte le stanze, rovesciando cassetti, aprendo tutti i mobili. Sono riusciti da un primo inventario effettuato dalla vittima a trafugare circa 2000 euro in contanti e alcuni monili in oro.